Un miglio per soggetti di tre anni, non corre il sette estrema, restano in diciannove, sette in prima fila, otto in seconda, quattro in terza. Già agli ordini dello starter, i diciannove concorrenti, inizia a prendere velocità in mezzo meccanico, centocinquanta metri circa la chiusura delle ali. Subito la rottura di Evita di Tario, il più veloce è Rino Jet, in seconda posizione si sistema Hendrik Slann, dalla seconda fila emerge Elfo del Ronco. 200 metri iniziali in 14 secchi, Elfo del Ronco punta in avanti, è stata la rottura di Evanton Spav, l'allievo di Simioli sfila a condurre nel giro di 450 metri circa. 29 il quarto iniziale, è rimasto a largo Evergreen Par, che risale trascinandosi Hermes del Circeo, terza ruota costante per elettrico Jet, 600 in 44 secchi, forse anche un filino in meno. Evergreen Par raggiunge Elfo del Ronco in testa alla corsa, i due seguiti lungo i paletti da Erino Jet, metà gara in 59 e mezzo, match preventivato, match in pista, Elfo del Ronco all'interno, Evergreen Par all'argo. chilometro ultimato in 1'14 e 3, continua il testa a testa tra i due anche nella frazione successiva, poi è Rino Jet, Hermes del Circeo. Tre quarti di miglio ultimati in 1'28 e 8, 14 e 4 gli ultimi 200 metri, Evergreen Par mette la figura davanti a Delfo del Ronco. in scia ad Evergreen Par, c'è Hermes del Circeo che prepara lo spunto, ingresso in retta d'arrivo, passa Evergreen Par, interviene Hermes del Circeo, si aggiunge alla lotta anche Tampax. Evergreen Par in vantaggio, ci prova Hermes del Circeo in prossimità del palo, Hermes del Circeo mette il musino davanti ad Evergreen Par, per il terzo è Tampax, per il quarto resiste. Elfo del Ronco, 1'58 e 6, media di 1'14 e 1, per questa novità per la pista e novità anche per il betting, Hermes del Circeo, il Sauro da Timoco e Top Secret Nando. Alla prima per il training di Giuseppe Citarella e i colori del signor Giuseppe Don Peppino Bellopede. Colpisce subito con un'informissima Crescenzo Maione da Schafferre. Attende le lotte premature degli avversari ed in prossimità del palo prendela meglio, stritolando il precedente record personale, portandola ad 1'14 e 1. Grazie. 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 Grazie.